La mia domanda riguarda la raccolta differenziata, vorrei capire perché la raccolta differenziata a Napoli non ha raggiunto i livelli sperati, alti livelli sperati, nonostante il cambio di management che c'è stato, poiché lei attribuiva tutte le responsabilità alla precedente classe dirigente. Buongiorno, signor Sindaco, noi siamo della zona, siamo persone che veniamo a vedere spesso a Napoli, perché non organizzate qualcosa in più per fare la differenziata? Grazie. Pongo un quesito, per l'immondizia a Napoli cosa pensa di fare? Salve Sindaco, io sono di Bagnoli e volevo sapere, poiché è iniziata la raccolta differenziata da un po' di tempo fa, all'inizio è andata bene, è partita bene, tutto a posto, solo che si è persa per la strada, non va più bene, che cosa possiamo fare per risolvere questo problema? Signor Sindaco, buongiorno, cosa sta facendo per tenere pulita Napoli? Volevo sapere il motivo per cui si debba pagare tanto per l'occupazione di suolo, dove uno vuole pagare ma non così tanto e il motivo, non so se riguarda il Sindaco o meno, di pagare due volte la tassa dell'immondizia. Qua innanzitutto scontiamo una carenza economica forte, che non ci consente di fare quel salto di qualità definitivo che vorremmo, ad esempio estendendo il porta a porta ancora di più o avendo più spazzatrici, però dobbiamo fare di più come soggetto pubblico, quindi Asia che comunque fa tantissimo in un contesto dato complicato deve dare ancora di più il massimo, i cittadini devono avere comportamenti complessivamente ancora più attenti e cessare quella inciviltà di una minoranza ovviamente, però che fa rumore e fa immondizia, in questo caso che continua ad avere comportamenti incivili. E poi dobbiamo anche creare nuove forme anche creative per certi aspetti nella raccolta dei rifiuti, penso a quei modelli sperimentali che stanno avendo un grande successo in alcuni quartieri della città con dei porta a porta mirati a seconda dei borghi, dei parchi, stimolando la partecipazione di condomini, di scuole, di commercianti, insomma io penso che la strada giusta è stata intraprese anche senza risorse e stiamo facendo tanto, nelle prossime settimane la battaglia che io sto cercando di condurre esercitando impressioni molto incisive sui nostri collaboratori e quello praticamente di poter potenziare le spazzatrici nella nostra città.